Dottor Uricchio, direttore del CNR IRSA di Roma, durante il suo intervento qui ad Ischia al Forum Internazionale sull'Economia dei Rifiuti, lei ha affrontato l'argomento dei rifiuti tombati sui territori, particolarmente riguardanti la Campania, in particolare sulle nuove tecnologie che vengono applicate per individuare questi rifiuti interrati. Quali sono queste tecnologie? Sì, sono tecnologie di change detection, ossia delle tecnologie che consentono di poter valutare nel corso del tempo le principali modificazioni che sono intervenute sul territorio. Possono essere modificazioni naturali, quali per esempio erosione costiera, scioglimento di ghiacciaio, ovviamente in altri contesti, ma anche delle modificazioni antropiche, quali per esempio quelle del tombamento dei rifiuti. Possiamo risalire nel tempo, quindi andare indietro nel tempo e valutare tutto ciò che è successo, quindi se ci sono stati degli scavi, delle scavazioni, dei tombamenti, degli interramenti di rifiuti e così via. Uno studio che abbiamo applicato al territorio che può costituire un modello che può essere ovviamente replicabile in qualsiasi altro contesto. Uno studio che avete applicato da quello che sappiamo anche in alcune zone specifiche, come ad esempio il parcheggio della stazione TAV di Napoli a Fragola ed anche in altre aree. Ci può anticipare qualche cosa riguardo i risultati? Sì, sono numerose le aree in cui abbiamo applicato queste tecnologie, anche a Fragola, dove abbiamo rivenuto 53 siti oggetto di tombamenti, in un'area anche abbastanza limitata nell'intorno della stazione ferroviaria. E quindi ora che cosa succederà in virtù di questi dati? Questo ovviamente dipende dalla Procura di Napoli che ha coordinato l'intera operazione. Noi abbiamo fornito questo supporto con la collaborazione di Polieco alla Procura di Napoli Nord.